Il terrore della scuola è un donnone e fa la spola sfida tutti gli insegnanti che le capitano davanti son passati i vecchi tempi quando ogni genitore non metteva in discussione il giudizio del professore or son tutti avvocati sospettosi e diffidenti non son più indiziati figli ma lo son tutti i docenti il suo volto minaccioso non si addice una signora non si sa cosa vuol fare con frequenza attacca briga sempre ovunque vuol parlare fuori luogo impulsiva mai prudente la sua lingua biforcuta fa scappare tanta gente e il suo modo impertinente fa indignare chi la sente altezzosa e presuntuosa spesso critica ogni cosa indispone chi è presente col suo fare prepotente chi la incontra la lontana questa donna assai balzana tra i ragazzi trovi belli trovi brutti sempre quelli non son tutti farabutti gli studenti l'han chiamata il terrore della scuola non si stanca di far spola la temibile signora